Carissimi amici e amiche in ascolto, ben ritrovati sulle frequenze del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà che ci aiuta a avvolgere lo sguardo, uno sguardo attento su alcuni aspetti della vita nella Divina Volontà particolarmente quelli connessi alla condizione che vivevano i nostri progenitori e che come sappiamo purtroppo sono andati sciacuratamente perduti oggi faremo dei passi ulteriori nel nostro percorso, in particolare andando a vedere, speriamo che riusciamo tre brani dove praticamente l'oggetto della trattazione sarà questo primo il perché la liberazione della Divina Volontà e anche di quella che era la vita di Adamo è arrivata non subito e la seconda diciamo così area meditativa sarà invece su un brano molto bello del ventesimo volume che ci rivela qualcosa di molto bello, di molto importante di com'era la condizione di Adamo nell'Eden prima del peccato originale e di quello che è successo dopo in particolare della successiva incapacità di Adamo quindi in un secondo momento di parlare della Divina Volontà non avendone più la capacità di farlo, avendo perso il dono è un passo molto molto bello, molto significativo e anche molto illuminante ci muoviamo da prima nello spettacolare diciannovesimo volume io lo ritengo uno dei più belli, almeno tra quelli di mia conoscenza, del libro di cielo con due piccoli brani brevi ma densi del primo e del 18 luglio del 1926 poi passeremo al ventesimo volume con un brano del 17 settembre del 1926 comincio subito la lettura per non tergiversare troppo in troppo prolissi preamboli primo luglio 1926 volume 19 il regno della mia volontà non è conosciuto quindi non posseduto mi sapresti forse tu dire qualche santo che abbia detto che possedeva questo regno e l'unità della luce del volere supremo certo che no io stesso poco parlai se avessi voluto parlare in modo disteso sul regno della mia volontà e di volerlo formare nell'uomo come lo possedeva Adamo innocente attenzione perché questo è quello che c'è intenzione di fare Gesù essendo il punto più alto il più immediato a Dio e che si avvicina più da presso alla somiglianza divina essendo ancora fresca la caduta di Adamo si sarebbero tutti scoraggiati e voltandomi le spalle avrebbero detto se Adamo innocente non si fidò cioè non si dimostrò degno di fiducia ne ebbe la costanza di vivere nella santità di questo regno tanto che precipitò lui stesso e tutte le generazioni nelle miserie nelle passioni e in mali irreparabili ma come possiamo noi colpevoli vivere in un regno così santo bello sì ma possiamo dire che non è per noi non solo ma essendo il punto più alto la mia volontà ci volevano le vie i mezzi di trasporto le scale le vesti decenti i cibi adatti per poter dimorare in questo regno onde la mia venuta sulla terra servì per formare tutto questo allora questo passaggio questo brano contiene delle informazioni fondamentali anzitutto allora numero uno ne dobbiamo pensare bene questo cioè nessun santo e i santi anche grossi ha posseduto il regno del divino volere e la luce del volere supremo rivediamo che tutti i santi hanno fatto in maniera eroica spesso e volentieri la divina volontà ma come Gesù stesso dice come chiunque è tuttora adesso invitato a fare trovami qualunque santo qualunque scritto qualunque dottrina che contenga quelle cose che io ti ho rivelato come te le ho rivelate che è chiaro che sono un approfondimento una spiegazione un dettaglio di tutte verità ampiamente contenute non solo nella rivelazione ma conosciute nella tradizione sia teologico dogmatica che ascetica spirituale della Chiesa però presentano delle forme delle modalità attuative delle peculiarità e conducono un fine che ancora non era stato vissuto nella Chiesa d'accordo? e Gesù spiega che questa cosa non poteva realizzarla lui subito perché necessitava una maturazione dei cuori e dei tempi onde non vanificare quest'opera prima ancora di compierla cioè il pensiero che poteva venire alla gente è questa qui ma dico signore mio se Adamo posto nello stato di innocenza quindi senza le debolezze le misere le passioni ha buttato alle ortiche una roba del genere ma noi che faremo? punto interrogativo faremo peggio è un regno santo sì bello ma non è per noi attenzione perché questo è il preambolo quindi Gesù cosa dice? dice che c'è voluto un tempo tempo incaricato di preparare le vie i mezzi di trasporto le scale le vesti decenti i cibi adatti per dimostrare in questo regno cosa sono queste sono tutte immagini no? qui si parla di due millenni di sacramenti due millenni di preghiere di vario genere sapete che anche la preghiera nella chiesa il suo tempo che c'è delle catechesi sulla preghiera la preghiera si è andata formando nella chiesa cioè il patrimonio spirituale della chiesa non è che c'era subito i tempi degli apostoli non c'era il rosario per esempio domani è una festa di San Domenico secondo la tradizione il rosario è stato rivelato dalla Madonna a San Domenico quindi nel 1200 la via Crucis per esempio non c'era la via Crucis pare che se la sia inventata San Francesco per devozione alla passione di Gesù poi il mio omonimo San Leonardo da Porto Maurizio quattro secoli dopo la diffusa a spada tratta insomma tutto spiano in tutta Italia ma non c'era la coroncina la divina mi ricordi non c'era la chiesa sempre pregato fin dall'origine antichissime con i salmi quindi la prima preghiera che si è strutturata vediamo anche l'opera del grande San Gregorio Magno nel stesso secolo è stata la preghiera ufficiale la preghiera liturgica ovviamente il Padre Nostro e le preghiere più antiche però poi nel corso della storia i grandi maestri di spirito l'orazione mentale la meditazione la relazione di contemplazione l'orazione che porta l'unione con Dio gli iscritti di Santa Teresa di San Giovanni della Croce quindi capite cioè qui c'è voluto del tempo per avere tutto questo non solo anche gli stessi sacramenti i sacramenti sono tutti quanti stati originariamente sette però per esempio non si scandalizzi nessuno uno che studia il sacramento della penitenza per esempio sa benissimo che anticamente la penitenza non veniva mai amministrata come oggi cioè io oggi mi posso confessare quando voglio anche tutti i giorni se volessi anticamente nei primi secoli la penitenza era amministrata una sola volta era possibile nella vita di un penidente ci sono fatto tante categorie su queste cose qui vado abbastanza veloce e soltanto in caso di peccato molto grave l'evoluzione successiva adesso non posso fare una lezione sul sacramento della penitenza ha portato però la penitenza come la conosciamo oggi quindi la penitenza anche del sacramento della penitenza anche di devoluzione con la penitenza sacramentale data subito contestualmente alla soluzione e non prima la penitenza e poi la soluzione che è un altro stadio risale intorno al XII secolo quindi 1200 anni dopo la presenza di Gesù quindi il sacramento c'è sempre stato le definizioni dogmatiche per esempio della chiesa sull'eucaristia risalgono al concilio di Trento sulla messa sacrificio e sull'eucaristia capito quindi tutto quanto non solo il patrimonio magisteriale d'accordo che noi abbiamo cioè tutti quanti i dogmi della chiesa erano tutti quanti come dire le innuce contenuti già nella primitivissima chiesa perché noi la chiesa cattolica è cattolica e apostolica d'accordo quindi noi che viviamo nel 2018 attraverso la successione degli apostoli e del successore di Pietro siamo collegati ai dodici però è chiaro che San Pietro e i dodici non avevano allora come dogma di fede per esempio quello che celebraremo tra una settimana l'assunzione sicuramente gli apostoli gli ha raccontato San Giovanni insomma ci credevano nell'assunzione quindi ma non era ancora stata formalizzata come verità di fede non impugnabile cioè se un convertito della chiesa non lo so di che ne so della Romania della cosa si chiamava della Tracia della Dacia a quei tempi non aveva conosciuto San Giovanni non aveva sentito insomma e non ci credeva che la Madonna era assunta in cielo non poteva essere scomunicato d'accordo perché questo dogma ancora non era stato formalizzato cioè nella chiesa sono stati celebrati in 2000 anni 21 concili non uno molti di questi sono stati concili pesanti d'accordo forti cioè dogmatici ecco anche l'ultimo concilio è stato importante pur non essendo un concilio dogmatico ma insomma il concilio vaticano primo ha definito come essere verità di fede per esempio l'infallibilità del Papa quando parla ex cathedra questa è una cosa insomma grossa d'accordo quindi c'è stato e poi non soltanto uno sviluppo quindi uno sviluppo dal di dentro attenzione lo sviluppo del dogma è anche lo sviluppo della pratica e della comprensione dottrinale dei sacramenti non è un cambiamento è uno sviluppo dal di dentro questa è la dottrina questa è la mens rigorosamente cattolica però viviamo oggi nel 2016 nel 2018 voi sapete no io quando ho insegnato un pochino ho insegnato fesiologia una domanda per vedere se lo studente aveva capito bene alcune cose io gli dicevo senti un po' ma secondo te è meglio la chiesa oggi o è meglio la chiesa del 100 dopo Cristo fare un attimo di silenzio e far rispondere è meglio la chiesa di oggi ma come la chiesa di oggi non è meglio la chiesa di oggi perché la coscienza della chiesa del 2018 è diversa da quella che c'era negli antichi tempi e anche alcune alcune cose vanno crescendo nel corso del del tempo nel corso della della storia la coscienza anche morale della chiesa cresce ecco quindi noi oggi ci troviamo la chiesa ha sempre avuto problemi difficoltà di vario genere non ci sono mai stati periodi tranquilli però da un punto di vista globale come la chiesa è oggi è meglio di come era 2000 anni fa da un punto di suo aggettivo poi che l'amore verso Gesù che l'amore verso la Madonna magari possano essersi raffreddati cioè questo è lo lasciamo giudicare al nostro Signore e si vedono tante cose ma da un punto di vista oggettivo altrimenti il nostro Signore non avrebbe atteso questi tempi per introdurci in queste verità forti belle ma anche insomma impegnative occorreva una preparazione quindi attenzione il regno della mia volontà non è conosciuto comincia così quindi non posseduto noi sappiamo che abbiamo detto tante volte la prima cosa importante da fare è conoscere certe cose io questi giorni sto leggendo dei brani in questo tempo ma guardate che sono per esempio nel volume di 19 ci sono dei passaggi il capitolo che parla della differenza che c'è tra il fare tra le virtù e la divina volontà lo cito il volume 19 9 aprile 1926 se uno lo leggesse e ci stesse a meditare due mesi non sarebbe fatica sprecata è veramente spettacolare proprio è proprio una luce cioè conoscere quelle cose cioè apprenderle cioè quantomeno confrontarcici confrontarci se uno può anche non crederci ma solo confrontarsi con quel mare di luce ma è una grazia immensa immensa quindi quello è il primo passo conoscere non significa possedere attenzione recentemente la lettera della congregazione della dottrina della fede sottoscritta dal Papa l'ha messo in guardia dalle nuove resie è il neognosticismo il neognosticismo afferma che se uno conosce delle dottrine sublime ed elevate già per questo diventa santo e già può stare tranquillo assolutamente quindi la conoscenza della della dottrina sul regno della dottrina volontà serve per che cosa? perché bisogna vedere uno se ci credi secondo credendoci se lo desideri terzo se lo desideri se ti metti in pratica e ti muovi e fai tutto quello che è necessario per poterlo vivere è la stessa identica dinamica che si sta ora in un processo di conversione come nasce la conversione come dice San Paolo come crederanno se nessuno glielo annuncia quindi la conversione nasce dalla predicazione del Vangelo cioè da uno che ti mette in condizione di conoscere che Gesù Cristo è venuto sulla terra e quello che ha predicato poi bisogna dire ci credi o non ci credi? ci credo bene allora mi converto e credo il battesimo e chiedo il battesimo scelgo di diventare cristiano ma poi non basta poi devo vivere da cristiano stessa identica cosa avviene in questa dinamica quindi non c'è nessuna forma di neognosticismo né altre sciocchezze del genere no? quindi però se non fosse conosciuto non potrebbe essere posseduto perché alcune cose che sono necessarie per entrare in questo regno con la chiarezza esplicita le abbiamo avute grazie a questi benedetti iscritti passiamo al secondo punto 18 luglio 1926 se avessi voluto manifestare il regno della mia volontà tanto quando venni sulla terra quanto prima che i beni della retenzione fossero riconosciuti e in gran parte posseduti dalle creature vedremo in una delle prossime puntate che lui a un certo punto dice ma perché perché non ce l'ha detto proprio proprio Adamo insomma no? ecco addirittura quindi se fossero riconosciuti e in gran parte posseduti dalle creature i miei santi più grandi si sarebbero spaventati ancora ritorna questo tema tutti avrebbero pensato e detto Adamo innocente e santo non seppe vivere né perseverò in questo regno di luce interminabile di santità divina come lo possiamo noi ed io ah amore mio eppure i miei timori non sono del tutto cessati delle volte mi spavento tanto che temo di fare un secondo Adamo e Gesù ah figlia mia non temere tu hai più aiuto questo vale anche per noi eh di quanto non aveva Adamo hai l'aiuto di un Dio umanato e tutte le opere per le sue per la tua difesa per il tuo sostegno per il tuo corteggio ciò che non aveva lui perché dunque vuoi temere? quindi dietro queste cose attenzione i santi si sarebbero spaventati ma ora noi non ci dobbiamo spaventare noi dobbiamo pensare perché ogni tanto si sentono queste cose qui ma no ma bello ma possiamo dire che non è per noi c'è una cosa troppo alta una cosa che è troppo in là non è vero lo vedremo adesso nel prossimo scritto cioè Gesù non allora c'è un principio generale della fede cattolica no? recentemente già ai tempi di San Girolamo c'era qualcuno che diceva che osservare i dici comandamenti era impossibile la chiesa ha sempre contestato questa cosa ha detto la osservare i dici comandamenti è possibile certamente con l'aiuto della grazia santificante perché Dio non chiede le cose impossibili perché se chiedesse una cosa è impossibile ma che la chieda a fare per formalizzare tutti i peccati che poi farai perché almeno se non l'avesse definiti i dici comandamenti uno potrebbe pure fare una trasgressione e non esserne consapevole una volta che ce l'ha davanti è proprio un trasgressione in senso formale per cui se quei comandamenti non li potessi osservare ma che me li dice a fare? cioè semplicemente per farmi diventare un trasgressore formale un criminale un criminale morale chiaramente non un criminale da codice penale invece no i comandamenti possono essere osservati e se Gesù queste cose le ha dette non le ha dette tanto perché cioè le ha dette perché possono essere vissute da chi lo desidera veramente non era un appannaggio né di solo Luisa né almeno nelle intenzioni di Gesù di pochi Gesù afferma in alcune parti dei scritti che purtroppo pochi si metteranno in condizione di poterlo vivere perché pochi faranno tutto quello che è necessario perché non è una cosa abbordabile facilmente cioè mettere sotto i piedi la propria volontà umana in tutto e per tutto senza dargli più neanche un respiro perché questo proprio detto in parole poverissime è vivere perfettamente nella divina volontà è un'operazione tanto semplice è un'operazione bellissima fruttuosa ma che richiede anche dei grandi sacrifici insomma e non tutti sono disposti a farlo perché si fermano all'immediato non guardano lontano non vedono il frutto di quei sacrifici rimangono di dove stanno insomma no bene adesso passiamo rapidamente dallo scritto un po' più lungo che ci terrà compagnia per questa seconda parte della odierna catechesi e stiamo al volume 20 17 settembre 1926 l'uomo col sottrarsi dal nostro volere l'uomo chiaramente è l'uomo adamo perdette il suo posto rimase senza la casa nostra esposto a tutti i pericoli tutti lo possono toccare per fargli del male pazzesco questo qui no gli stessi elementi sono superiori a lui perché possiedono una volontà suprema mentre lui possiede una volontà umana degradata che non sa dargli altro che miseria debolezza e passione preferisco questo brano come dire leggerlo e commentarlo non leggere e poi tornare indietro fermarmi su questi punti no allora vediamo questo l'uomo adamo si sottrae al volere di vino perde il suo posto rimane senza la casa nostra bellissimo questo qui no la divina volontà definita la casa nostra cioè la nostra abitazione capite l'idea della casa uno dentro la casa ci vive tante volte Gesù usa questa immagine uno dentro la casa ci vive si muove nelle stanze le conosce le abita quindi è il suo habitat e attenzione attenzione esposto a tutti i pericoli tutti lo possono toccare per fargli del male capite cosa significa no gli animali specialmente gli animali le belve i serpenti venenosi a noi se ci acchiappano ci si smagnano questo è conseguenza diretta questo Gesù lo afferma chiaramente la Chiesa ha sempre affermato che tra le conseguenze della colpa d'origine c'è il disordine del creato questo si capisce benissimo dal libro della Genesi San Paolo afferma nelle sue lettere la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio perché è stata sottomessa alla caducità non per suo volere ma per volere di colui che era sottomessa nutre la speranza di essere lecura liberata dalla schiavitù della corruzione sulla base di questi passi la Chiesa ha sempre insegnato che il peccato originale ha influito in negativo sullo stesso creato e ha causato un disordine anche al di fuori dell'uomo cioè la creazione si è ribellata il disordine è entrato nella creazione Dio non è il creatore dei terremoti Dio non è il creatore delle alluvioni Dio non fa queste cose Dio non è il creatore del disordine nella natura Dio sicuramente non è il creatore non è il creatore del fatto che in natura si scannano gli animali tra di loro anche questa non è roba che viene da Dio questo è tutto quanto figlio di un disordine grande però cosa si aggiunge si specifica qui da cosa dipende gli elementi sono superiori a lui perché posseggono una volontà suprema mentre lui possiede una volontà umana degradata cioè il creato è rimasto nella divina volontà da cui è uscito l'uomo no per cui paradossalmente pur essendo l'uomo il principe del creato perché ha la ragione quindi è un essere pensante intelligente sotto certi punti di vista è inferiore al creato perché lui ha perso la divina volontà e sta in barriere di una volontà degradata e a volte è proprio debosciata cioè ragazzi basta seguire i telegiornali quotidiani che al peggio non c'è mai fine insomma no ecco e la creazione no un albero non ha mica perso la connessione con la divina volontà no tutti fanno nel creato il loro lavoro così come è uscito dalle mani dell'altissima allora e siccome ha perduto il suo principio prosegue la lettura no attenzione possiede una volontà umana degradata che non sa da agli altro che miserie debolezze e passione una condizione molto triste quella dell'uomo decaduto e siccome ha perduto il suo principio continuo a leggere il suo posto è rimasto senza ordine disarmonizzato con tutti e non gode pace neppure con se stesso guardate che la stragrande maggioranza purtroppo degli esseri umani vive esistenzialmente non c'è bisogno di dimostrazioni vive questo all'ordine del giorno quindi niente ordine guardate che l'ordine è una delle caratteristiche più importanti nella vita nel divino ordine sotto tutti i punti di vista ordine interiore ordine esteriore ordine nelle cose dappertutto disarmonizzato con tutti la mancanza di armonia a tutti i livelli d'accordo? a tutti i livelli pensiamo a come sono le nostre relazioni interpersonali se possiamo dirci che siamo perfettamente armonizzati con tutto e con tutti compresi gli ambienti di lavoro gli ambienti familiari le relazioni di parentela e non gode pace neppure con se stesso quante sono le persone che possono dire io vivo abitualmente in pace con me stesso con Dio e con tutti non credo che siano tanti sentite come rincara la cosa sicché si può dire che è il solo essere ramingo in tutta la creazione che per diritto nulla gli tocca ha perso tutto il ramingo il ramingo mi fa pensare alle saghe di Tolkien no? i raminghi i raminghi sono quelli che vanno vagando in giro disperati senza fissa dimora perzi ecco il ramingo prosegue perché noi con la N maiuscola tutto diamo a chi vive nella nostra volontà perché sta in casa nostra l'immagine della casa bellissima è uno della nostra famiglia i rapporti i vincoli di violenza che possiate con lui vivere in essa gli danno il diritto a tutti i nostri beni invece chi non vive nella vita di essa ha spezzato come di un solo colpo tutti i vincoli tutti i rapporti perciò è tenuto da noi come cosa che non ci appartiene allora Luisa riprende amore mio Gesù a 70 virtù contengono queste conoscenze sulla tua adorabile volontà ecco quello che parcellavo perché non le manifestasti ad Adano affinché facendole conoscere ai posteri avessero amato apprezzato di più un tanto bene ed avrebbe risposto gli animi quando tu divino riparatore decretavi per darci questo grandono del regno del fiat supremo perché non ne ha parlato Adano e Gesù riprendendo il suo dire ha soggiunto questo è bellissimo figlia mia Adano finché stette nell'Eden terrestre e visse nel regno del supremo volere conobbe tutte le conoscenze per quanto a creatura è possibile ciò che apparteneva al regno che possedeva questa frase ci dice subito che c'è stato un tempo non si specifica quanto quindi il peccato originale non è stata una cosa immediata cioè che appena creato ad alto subito il peccato originale no c'è stato un tempo in cui Adano ha vissuto l'Eden terrestre il paradiso terrestre la gioia ma come uscì da esso il suo intelletto si oscurò perdette la luce del regno suo e attenzione non trovava i vocaboli adatti per manifestare le conoscenze che aveva acquistato sulla suprema volontà perché mancava in lui quello stesso volere divino che gli porgeva i vocaboli necessari per manifestare agli altri ciò che lui aveva conosciuto questo da parte sua molto più che ogni qual volta ricordava la sua sottrazione alla mia volontà il bene sommo che aveva perduto aveva tale stretta di dolore da renderlo taciturno perché rapito nel dolore della perdita di un regno così grande e di mali irreparabili che per quanto Adamo potesse fare non gli era dato di riparare ma ci voleva quel Dio stesso che aveva offeso porvi rimedi da parte del suo creatore non aveva nessun ordine perciò non gli davo capacità sufficiente per manifestarsi perché a che pro manifestare una conoscenza attenzione quando non dovevo dargli il bene che conteneva io allora faccio conoscere un bene quando lo voglio dare allora qui bisogna seguire bene il discorso che fa Gesù è bellissimo allora Adamo ha vissuto questa cicla di carica si chiama Adamo nel regno della divina volontà Adamo ha vissuto nel regno della divina volontà per un certo tempo poi ne è uscito e si è ritrovato incapace di parlarne dice Gesù per due motivi primo perché il volere divino che gli porgesse i vocaboli necessari per poter parlare di cosa tanto grande in lui non c'era quindi chi parla della divina volontà ha già sempre un bel po' di preghiere perché per parlare di questo mondo Gesù stesso usa un linguaggio che a tratti diventa un linguaggio tecnico che poi si impara no? perché non è mica tanto semplice parlare di un mondo divino per noi totalmente divino per noi che siamo viatori in corso di via non ancora arrivati non ancora in grado di poterlo comprendere perfettamente noi possiamo balbettare qualcosa captare qualcosa e secondo dice Gesù non ne parlava perché solo che ci pensasse moriva di dolore cioè consapevole dell'irreversibilità almeno momentanea di quello che aveva fatto aveva fatto la fatta grossa perché perdere una volontà divina a causa di un disordine della volontà umana necessitava necessariamente che ci fosse il soggetto offeso Dio come di fatto poi avvenne che incarnandosi quindi vivendo con una volontà umana ridonasse all'uomo la volontà divina perduta quindi non c'era niente da fare e quindi questo gli dava un dolore immenso perdita di un regno così grande e di mali irreparabili che per quanto Adamo potesse fare non gli era dato di riparare ma ci voleva appunto questo qui allora qui dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione perché l'esperienza di Adamo insegna Adamo ha commesso dei mali e almeno fino a un certo momento irreparabili è venuto Gesù a ripararli ripararli sostanzialmente ma le conseguenze nefaste dei mali di Adamo non tutte sono riparabili cioè anche chi entrerà nel regno della divina volontà per esempio morirà quindi nessuno si va a inventarsi le favole che si diventano immortali morirà d'accordo perché l'unica creatura che non è passata per la morte come la conosciamo noi è ancora viva teologicamente la diatriba la Madonna è morta non è morta tutti sono la Madonna non è morta sicuramente non ha subito la corruzione ma sicuramente non poteva morire come moriamo noi perché la morte è conseguenza del peccato originale quindi il massimo che si può concedere e in effetti così si chiama in terra santa a Gerusalemme il luogo dove si ricorda il transito di Maria si può concedere che la Madonna si è addormentata si chiama la dormizio Maria quindi si è addormentata e quando ha aperto gli occhi si è ritrovata assunta in cielo ecco ma questa è un'esclusiva di Maria Santissima perché c'era il peccato originale oltre ad avere il dono della divina volontà questo non lo può vivere nessuno questo qui quindi c'è un ripristino di alcune cose ma non si cioè il regno della divina volontà è un ritorno alla condizione delle origini veramente sì è promesso una felicità terrestre da Gesù in tantissime parti degli iscritti lo vedremo sì è promesso una sorta di nuovo Eden sì ma non è esattamente la stessa cosa d'accordo Adamo prima del peccato originale il dolore non lo conosceva non sapeva cosa fosse chi entra nel regno della divina volontà sarà felice leggeva uno scritto proprio oggi anche nel dolore questa è la bella notizia ma il dolore non può scomparire dopo che sul pianeta terra è entrato il peccato non può non può perché tra l'altro un figlio che deve volere è chiamato a farsi carico del dolore e quindi di porre un argino a male nel mondo più degli altri d'accordo in unione con le sofferenze di Gesù quindi alcuni mali purtroppo sono irreparabili noi dobbiamo sempre essere allora i peccati non dobbiamo farli d'accordo perché non è affatto la stessa cosa fare un peccato o non fare un peccato su questo argomento io desidererei adesso fermarmi un attimo che è connesso anche se esce un pochino dal tema in senso stretto della divina volontà allora è chiaro che la cosa migliore riguardo il peccato è non farlo d'accordo perché se tu a una persona gli dai una cortellata eh vabbè ma la cortellata gliela do sul braccio non è mortale poi se mette i punti e scucciamo la ferita che discorso è è meglio gliela dai una cortellata no d'accordo cioè ogni atto cattivo ogni atto opposto alla divina volontà produce delle conseguenze negative cioè il peccato originale è stato un marasma generalizzato e trasmesso quindi di portata universale e cosmica per certi aspetti ma come tutti i pontefici incluso Papa Francesco hanno ripetutamente insegnato il peccato individuale produce la morte produce conseguenze negative produce danni che è evidente per alcuni tipi di peccati che possono diventare irreparabili cioè se io una persona prendo una ricoltella e gli sparo cioè che ripari cioè si può con benitenza con quello mica risuscita cioè il danno prodotto da quel peccato non è riparabile ce ne sono tanti altri ce ne sono no quando una persona come dire esagera con una vita proprio da debosciato dissoluta d'accordo per lui è possibile la conversione sempre d'accordo e ottenere il perdono ma delle volte capite cioè si è fatto talmente tanto male a se stessa quindi causandosi tanto di quelle lacerazioni interiori ferite disastri che la personalità ne risente d'accordo per cui riuscirà dopo la conversione avere una vita equilibrata serena mica mica sempre e questo mica dipende dal fatto che Dio non gli vuole più bene cioè ha vato dei danni grossi d'accordo ecco questo per dire ragazzi cioè c'è un passo della lettera di noi non dobbiamo mai crogiolarci mai crogiolarci su tanto Dio mi perdona quindi ho tante catechesi invece in passato no? la Divina Misericordia è una delle cose più belle che esiste ringraziamo Dio che esista se no sarebbero veramente guai grossi ecco ma la Divina Misericordia non deve mai diventare una sorta di incentivo al male con la scusa che tanto Dio mi perdona perché il male produce danni alcuni danni sono irreparabili non sono irreparabili soltanto quei danni che oggettivamente appaiono come tali se io ammazzo una persona la persona non si suscita ma ci sono anche altre cose quindi altre conseguenze nefaste delle azioni brutte e negative che possono generare situazioni irreversibili pensate ai matrimoni che si sfasciano no? i matrimoni che si sfasciano di che cosa sono figli? di peccati su peccati su peccati su peccati su peccati su peccati quando uno smette può darsi che sia troppo tardi perché se la persona che ti sta vicino tu l'hai massacrata l'hai distrutta non è che non ti vuole perdonare ma non ce la fa proprio più è proprio cioè è K.O capite? un essere umano ha un limite come dire di sopportazione tu non puoi è boom 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 rimane al suo posto fa l'eroe ti perdona ti fa porgere l'altra guancia tutto quello che vuole però schioppa a un certo punto questo io vi dico cioè vi dico le esperienze proprio pastorali che cosa gli vuoi a dire? dice non è che non lo voglio perdonare non ce la faccio più se sono proprio se sono proprio arrivato capito? ce lo perdono capito? lo perdono ma non ce la faccio proprio più allora noi dobbiamo fare certo certo dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione a darci una calmatina d'accordo da non essere rigidi ecco la vita è una cosa seria le nostre azioni ci hanno delle conseguenze quindi dobbiamo camminare in spirito di continuo ascolto calma conversione cioè ci sono delle azioni che sono irreparabili ci sono dei momenti della nostra vita dove tu se imbrocchi la direzione sbagliata addio io ho conosciuto situazioni purtroppo di questo genere vito tante altre se ne vedono cioè quando uno imbrocca una direzione cioè sta sempre attenti cioè vi invito a tutti quanti ponderazione discernimento prudenza soprattutto quando si tratta di scelte gravi significative cioè tu imbrocchi cioè convinto per una strada e se quella strada ti porta su un burrone poi ti sfracelli una volta che ti sei sfracellato ti sei sfracellato capito cioè discernimento prudenza calma ponderazione mettersi davanti al Signore non fare scelte precipitose non fare scelte azzardate non percorrere vie cioè noi dobbiamo sempre percorrere sempre questo è un principio di prudenza io adesso con diversi anni di ministero cioè se tu c'è un'alternativa tra una via sicura e una via insicura tu devi sempre percorrere la via sicura perché se percori la via insicura è una via insicura è una via insicura noi abbiamo la grazia per esempio anche per quanto riguarda la vita in generale di poter seguire e su questo non bisogna mai muoversi insegnamenti della Santa Madre Chiesa certi se tu stai lì dentro stai tranquillo che non ti possono succedere mali rilevanti se tu esci da questo recinto può darsi che le cose vadano bene ma può darsi pure che vadano male ti lo ordine il medico quindi che cioè io penso che bisogna sempre avere un grande discernimento Adamo poi una volta che l'ha fatto a voglia piagni che te piagni dopo diventava taciturno non poteva parlare più della divina volontà eh ricordate chi era il personaggio di 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 Giorgio Bragandino diceva ma brutti disgraziati dice che ci potevate pensare prima ci poteva pensare prima ci poteva pensare prima c'erano alcune cose che bisogna pensarci prima per cui quando si vuole vivere nella divina volontà io non mi muovo se non ho la certezza interiore fondata e confrontata specialmente sulle cose a rischio che quello che sto facendo corrisponde ai divini voleri non mi muovo perché se esci da lì lo fai a tuo rischio e pericolo fai come il cappuccetto rosso ah io vado tranquillo non succede niente vai vai ecco allora ultima cosa prima di completare la lettura il terzo motivo per cui Adamo non parlò della divina volontà era perché Dio non glielo permetteva perché perché a che pro manifestare una conoscenza senza poter dare il bene che conteneva cioè il motivo per cui il Signore ha fatto conoscere a fondo il mistero della divina volontà è perché noi potessimo accoglierla e godere dei beni che contiene quindi l'ha fatta conoscere nel momento in cui l'umanità i cristiani in particolare figli della Chiesa se vogliono hanno tutto quanto un patrimonio come abbiamo visto all'inizio di questa catechesi spirituale dottrinale sacramentale magisteriale e d'accordo accumulato tale da consentire di comprendere di entrare di mettere in pratica e di vivere la bellezza della vita della divina volontà ai tempi di Adamo questo non c'era ultima parte vedete Dio ci rivela qualche altra cosa di quella che era vita dal nostro progenitore non dobbiamo pensare male adesso perché Adamo ha fatto il peccato originale ha pianto per tutta la vita ma poi cercava di condurre una vita per quanto possibile santa d'accordo? Adamo non sta all'inferno penso che tutti quanti lo sapete Adamo stava nel limbo e Gesù l'ha tirato cuore dal limbo il sabato santo Adamo adesso sta in paradiso non sta all'inferno ma la tonta che Adamo non parlò diffusamente sul regno della mia volontà insegnò tante cose importanti su ciò che lo riguardava tanto è vero che nei primi tempi della storia del mondo fino a Noè le generazioni non ebbero bisogno di leggi non ci furono idolatrie ma tutti riconoscevano uno il loro Dio perché ci tenevano di più alla mia volontà invece quanto più si allontanarono da essa sorsero le idolatrie peggiorarono i mali peggiori e perciò Dio vide la necessità di dare le sue leggi la legge fu data dopo Noè la legge proprio in senso formale fu data a Mosè e perciò Dio vide la necessità di dare le sue leggi come preservativo alle umane generazioni e perciò bellissimo questo qui per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi perché essa è vita e legge ed è tutto per l'uomo bellissimo questa frase qui veramente sarebbe da incorniciarsela sopra il proprio giaciglio e ripeto per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi perché essa è vita è legge ed è tutto per l'uomo è chiaro che se io faccio in tutto cioè che cos'è la legge la legge è una manifestazione della divina volontà tale da creare uno spartiacque se tu stai dentro i confini non esci in maniera grave dalla divina volontà quindi non crei disordine se tu esci da qui è la fine quindi la legge non è altro che la manifestazione come dire del minimo indispensabile per fare quello che Dio vuole e non uscire andandoti a fare del male è chiaro che questo il minimo indispensabile poi prevede uff molto oltre ma è chiaro che chi vuole fare la divina volontà che pecca no non è compatibile la situazione di peccato volontario quindi questo lo dobbiamo avere molto molto chiaro dentro dentro la testa no cioè il mondo della divina volontà è un mondo che porta come dice Gesù ad una santità non solo ad una santità ma una santità sublime per cui entrare in questa vita presuppone una scelta già fatta io leggiamo la bellissima ultima encirica del Papa sulla santità che è una bellissima esortazione alla santità io voglio diventare santo d'accordo percorrere questo cammino senza avere troppo paura perché diventare santo insomma sì è impegnativo sta scritto nell'encirica è bello ma è difficile non troppissimo d'accordo certamente fino a quando lo percorre la via ordinaria delle virtù virtù certamente umane cristiane sentirà il peso quando poi si vola nelle ali della divina volontà come dice già Gesù nel Vangelo tutto diventa dolce è leggero il carico diventa molto 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 suave e il peso leggero questo è proprio una delle delle spie per comprendere se stiamo ancora Santa Teresa direbbe lavorando di braccia quindi a forza di sforzi prevalentemente di sforzi umani oppure se stiamo già camminando sulle ali l'onda ecco che ti ti porta un po' come un mare in cui navigo una barca a vela se tu metti una barca a vela sul mare col vento devi soltanto mettere bene le veli ti metti al timone e poi se devi girare sposti l'albero ma il resto va tutto da sola la barca va da sola è molto diversa che non la barca a remi quindi per chi fa la mia volontà non c'è bisogno di leggi perché essa è vita è legge ed è tutto per l'uomo tutto queste parole quindi legge le abbiamo visto vita è tutto allora vivere nella divina volontà si dice proprio così comporta una scelta di vita radicale non è un qualche cosa di cioè non è un un optional come dire una moda una sorta di elite è una vita cioè chiaramente la conoscenza è la prima cosa vedere che cos'è questa vita la scelta è la seconda cosa la pratica è la terza cosa e diventa tutto per l'uomo cioè le parabole famose non le parabole che hanno l'applicazione che hanno un'applicazione possibile certamente non l'unica per la vita di una volontà sono la parabola del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa tutto pur di avere il tesoro tutto pur di avere la perla quindi è una vita che convoglia tutte le energie interiori della persona perché tende a creare una unione H24 interrotta quindi una corrente un flusso perpetuo quindi a far vivere la potenza della divina volontà con tutte quante le sue caratteristiche incessantemente in noi si vive una vita bellissima meravigliosa d'accordo ecco però chiaramente perché questo accada e questo poi lo continueremo a vedere in questo ciclo di catechesi nelle meditazioni c'è bisogno di tutto quindi tutta l'energia diciamo complessiva dell'essere umano della creatura umana che vuole entrare in questo mondo deve essere convogliata verso questo obiettivo e quando questo c'è sicuramente è soltanto questione di tempo perché Gesù come qui spiega ha fatto conoscere questo bene perché intende darlo non per farci lucubrare o per o per creare nuovi gnosticismi ma per illuminare una via aurea da percorrere perché possiamo dare a Dio il massimo nella carriera che possiamo dare possiamo portare a portare all'umanità il massimo del bene possibile immaginabile che si possa fare e possiamo oltre che sperare nella felicità celeste cominciare a vivere realmente quello che Dio vuole anche una felicità terrestre quella felicità che Adamo perdette e che il Signore desidera restituire alle creature che si dispongono ad accoglierlo detto questo saluto tutti quanti con la mia benedizione ci sentiamo per chi crede la prossima settimana Fiat Ave Maria Grazie